Buonasera cari ascoltatori di Radio Puginioner, benvenuti ad un nuovo episodio. Vi parleremo oggi di Mara Maionchi, celebre discografica italiana, nonché giudice di vari reality, la conosciamo tutti, che recentemente si è raccontata, proprio pochi minuti fa, in un'intervista approfondita sulla sua vita personale e professionale a Francesca Fagnani, nella sua intervista a Belve, il programma ormai famoso che c'è ogni lunedì. E preparatevi dunque per un viaggio attraverso le esperienze della Maionchi, i suoi pensieri più intimi e le sfide affrontate lungo il suo percorso. In questa intervista, Mara Maionchi si è aperta senza riserve, parlando del suo matrimonio con Alberto Salerno, iniziato nel lontano 1976. Tuttavia, dietro la facciata di un'unione longeva, si cela una storia complessa. Mara Maionchi ha rivelato che il tradimento del marito fu una realtà dolorosa, scoperta grazie ad una ricevuta d'albergo trovata nei suoi pantaloni. Un evento che ha lasciato un'impronta profonda nel loro rapporto. Mara stessa si è attribuita da una parte della colpa, diciamo, confessando che forse non è stata in grado di soddisfare pienamente le esigenze del marito nella sfera intima. È stata chiara nel dire di non essere portata per le luci rosse, preferendo una certa modestia nelle dinamiche sessuali. Ma non è tutto qui. Mara Maionchi ha anche parlato della sua lotta con il gioco d'azzardo, definendo il suo rapporto con questa pratica ambivalente. Ha riconosciuto di aver esagerato in passato, tanto da farsi addirittura sospendere dai casinò tramite una lettera autografa. Questa dipendenza, come lei stessa l'ha definita, era un modo per fronteggiare situazioni personali e familiari non soddisfacenti, inclusa l'infedeltà del marito. Uno dei temi toccanti nell'intervista è stato anche il rapporto di Mara Maionchi con sua madre, descritta una figura strana e poco affettuosa. La madre di Mara Maionchi non partecipò al matrimonio della figlia, affermando che i matrimoni le facevano tristezza. E come non darle torto, spesso la storia testimonia questa tristezza di promettersi un'unione eterna per poi, come abbiamo visto anche nel caso della Maionchi, ritrovarsi con le corna dall'una o dall'altra parte, spesso da entrambe. Insomma, comunque, parlando del rapporto tra la madre e la Maionchi, questo ha contribuito a creare sicuramente una relazione conflittuale tra loro, caratterizzata da una mancanza di affetto e comprensione. La Maionchi ha ammesso di aver cercato per tutta la vita un'affettuosità che la madre non poteva offrire. Queste sono solo alcune delle profonde riflessioni e confessioni di Mara Maionchi durante l'intervista a Belve, ma c'è un'affermazione che ha fatto la Maionchi che poi ha dato vita a una serie di notizie che stanno circolando ormai già in tutto il web. Per questa affermazione vedremo cosa risponderà Tiziano Ferro alle critiche anche che ha fatto Mara Maionchi. Ha fatto parlare di sé lanciando una frecciatina nei confronti di Tiziano Ferro, svelando alcuni retroscena anche molto interessanti della sua vita e della sua carriera. La discussione è iniziata quando Francesca Fagnani ha chiesto alla Maionchi se qualcuno nel suo percorso professionale non avesse compreso quanto fosse stata fortunata ad incontrarla. Inizialmente, evitando nomi, Mara ha risposto con una certa vaghezza, ma poi è stata incoraggiata dalla Fagnani ad essere più diretta. È in questo momento che la Maionchi ha espresso il suo disappunto nei confronti di Tiziano Ferro, rivelando che non pensa che lui abbia pienamente riconosciuto il suo contributo nel suo successo. Ha sottolineato che sia lei che suo marito hanno aiutato Tiziano Ferro a diventare ciò che è oggi, ma ha anche aggiunto che non è essenziale aspettarsi riconoscenza incondizionata. Dunque, oltre a questi momenti sul lavoro, Mara Maionchi ha condiviso anche aspetti personali importanti della sua vita, come l'infanzia segnata da un rapporto conflittuale con sua madre. Per il fatto, ha iniziato questo rapporto conflittuale quando non ha partecipato al matrimonio della figlia perché non gradiva i matrimoni, considerandoli fonte di tristezza. Inoltre, Mara ha toccato il tema della ludopatia, ammettendo di avere una certa inclinazione al gioco d'azzardo, anche se non è sicura di definirsi dipendente. Poi ha parlato delle gorna del marito, e questi sono alcuni dettagli che offrono uno sguardo più intimo sulla complessa personalità di Mara Maionchi, mostrando le sfide e le esperienze che hanno plasmato la sua vita. Ma se vi siete persi questa meravigliosa intervista da parte di Francesca Fagnani a Mara Maionchi, potrete rivederla nelle prossime ore sul sito di RaiPlay o in tutti i siti dedicati, e vi invitiamo davvero a farlo perché ne vale la pena. Fateci sapere voi cosa ne pensate nei commenti, continuate a seguirci su Radio Puginion Air per ulteriori discussioni e approfondimenti su musica, cultura e tanto altro. Alla prossima puntata.